I fake fan di VGF Esatto, oggi andremo a vedere un pochettino cosa pullula su Twitch E in particolare le streaming dove reagiscono e fanno finta di essere fan di VGF Prima che inizi il video avevo visto già che questa è la mia opinione personale Linda è pinta per com'è Quindi se pertanto non siete d'accordo con me Potete pure tranquillamente farvelo sapere nei commenti Senza scannarvi tra tutti quanti E soprattutto abbiamo raggiunto anche i 17.000 iscritti Quindi grazie di cuore Branco E se vi piacciono i contenuti lasciate anche un'iscrizione e anche un like Tanto non vi costa nulla, è gratuita come cosa Spero che il video vi piaccia e buon divertimento Benvenuti a tutti quanti quelli che guardano questo video in questo momento Ciao, come state? Spero bene, spero Allora, iniziamo a parlare dell'argomento che sarà Non porto argomenti da circa ormai un sacco di tempo Perché sapete, sapete come sono ormai i contenuti che ci sono evoluti Sono andati al di là dell'immaginazione Quindi ora bisogna portare contenuti di qualità E per contenuti di qualità si intende Minecraft ma Si intende qualche video magari sulle Bedwars decente così e cosà Qualche video sui client che non ci fa mai male Ma dietro a tutto questo Sotto qualsiasi tipo di buco umano Esistono loro Esistono le Lion VGF fam Esattamente Vi spiego in breve, vi spiego Sulla piattaforma di Twitch Stanno approdando, ok? E non solo ora Ma da tanto tempo che approdano Gente che fa le streaming Reactando a video di Lion Ok? Io metto le mani avanti L'ho fatto pure io, l'ho fatto tranquillamente Dove reactavo a video di Kendal sulle Bedwars Pure a Lion che faceva magari I vecchissimi troll Ed erano cose OG Magari Lion che prova a fare le Bedwars Tutti i contenuti che seppur comunque sia contenuti Erano anche vecchi Quindi non c'avevano molto a che fare Ma mi ritengo lo stesso comunque sia Nella parte di persone che reactava a Lion Ok? Anche se da diverso tempo che non lo faccio Ma non mi salva da questo Non mi salva sta accusa qui Quello che voglio far presente È questo È che no Non mi sta sul cazzo Lion non mi sta sul cazzo Nessuno dei VGF No Non mi dà fastidio a nessuno Ma la cosa che non tollerò più di tutte È questo Ma allora è lui È Giorgio VGF È tornato Aspetta un attimo Giorgio non ha Twitch E nemmeno si sa dove è andato E soprattutto Giorgio che reagisce ad un video di Lion Non credo nemmeno che abbia questa voce qui Nella parte in cui dice Mi sto scia Ora Immaginati tu Che inizi a streammare Su Twitch Ok per la prima volta O meglio ci provi da diversi mesi Ormai è da tantissimo che ci provi a streammare Provi con qualsiasi cosa Provi a fare le Bedwars E non ti riescono ad andare Provi a fare magari Minecraft Con i follower E non ti va Provi a fare qualsiasi cosa E non ti riesce niente Perché non ti riesce niente? Perché magari sbagli qualcosa nell'intrattenimento O forse Nel modo di portare le cose O forse Non si è portato per il gioco O per lo streaming in generale Ehi Ma non ti preoccupare Perché in questo caso Entrerai in scena La tua immagine nuova di profilo E soprattutto Anche Il tuo bellissimo titolo Con su scritto LionVGF Fan E lì Signore e signori Orda Ordate di follower Pact che salgono Come non mai Manco Cristo Che hai iniziato a fare video su YouTube Tra l'altro È veramente Un sacco di persone Che sabbano E ti donano Ok adesso Il nuovo format E il nuovo modo Per poter fare soldi su Twitch Fare reaction Voglio parlare anche di questa persona In particolare Che è stata presa di mira Abbastanza Anche come Tishy Quei è stato diciamo Uno dei primi a fare le reaction A Lion C'è una piccola differenza comunque Da questo content creator A Yal Meno male Lui è riuscito a fidelizzarsi Abbastanza al pubblico Avendo qualità Ad avere almeno Un piccolo Metodo di intrattenimento Quindi completamente Non è malvagia come cosa Ma quando invece avviene troppo Lo spamming di Lion WGF E cose che comunque Che dico in faccia tranquillamente Anche perché con lui Ci sono anche tranquillamente amico Non è che mi vergogno Io a dire le cose Non in faccia Sono una persona Molto trasparente io E che una volta Che inizia a farlo qualcuno Gli va bene E una volta che quella persona Vede che quella persona lì Va bene Tutti iniziano a farlo Rendendo praticamente La piattaforma Poco come se fosse solamente Reaction Cioè priva di contenuti Veramente originali Cioè un tempo c'era per esempio La Big Vanilla Che faceva contenuti Comunque sia abbastanza carucci Ora è solamente questo Ora Non so Io se c'è un livello Di esagerazione o no Però Penso che la cosa Stia un attimo sfuggendo di mano E Se dico penso È perché Lo sta veramente succedendo Sta veramente sfuggendo di mano Questa cosa Difatti Prendo come esempio Questo ragazzo qui Che ogni volta che va in streaming Prende la immagine Il profilo di George E se la mette nel suo canale Adesso io non so Che fine abbia fatto George Però So che molte persone Sanno che È scomparso Per dei problemi familiari O altro E manco sarebbero a fare i nostri Il sapere perché è scomparso Non bastando Questa cosa qui Cerca anche di Attirare il pubblico Dei VGF Con un titolo Dicendo che appunto Sei il George o no Automaticamente La persona Quando va a vedere Questa cosa qui Impazzisce Quindi clicca Soprattutto per la curiosità Però Io non so Quanto sia bello Doversi in padronine Dell'immagine di qualcuno Solamente per fare Quattro speech A fine mese E soprattutto Per avere quel pizzico di fama Che tu stesso Con la tua personalità Non riesci a crearti Per me è la cosa più triste del mondo Sinceramente E non so voi Non è l'unico che fa una roba del genere Ce ne sono altri anche Soprattutto Il ragazzo in questione Non riesce neanche a fare il punto Della situazione E non riesce a capire Che è anche eticamente Sbagliato Ormai Twitch è pieno Di queste persone qui E se continua così La sticella di Twitch Non farà altro Che abbassarsi Sempre di più Perché se ricordiamo bene La persona che fece Una roba del genere E che letteralmente Pushava Solo su questo Content qui È stato bannato Bannato su Twitch Per almeno Due o tre giorni Perché Nonostante Era in streaming C'era anche Lion E lui aveva tipo Circa 7000 spettatori E passa Ora non so voi Però se vai a togliere Comunque sia follower Ad una persona Che sta streamando Perché magari stai reactando A un video Potrai essere anche Il più bravo del mondo Anche a farlo È un po' come se tu fossi Il cinema di queste persone qui Cioè tu stai Ogni tanto commentando Però stai facendo Principalmente vedere Il contenuto Di un'altra persona Quindi più di tanto Non so neanche quanto Non so neanche quanto In realtà sia conveniente Continuare con questo content Detto sinceramente Quindi questo video qui Non ha lo scopo Di buttare merda Sulle persone Ma è per Un attimo far notare Come la community Sta cambiando Andando in una direzione Che la pappa Deve essere già pronta Cioè è un po' come se Tutti quanti i content creator Di adesso si svegliassero In questo momento E trovino già la pappa pronta E che non hanno più voglia Di fare contenuti Perché si vede Anche da questo punto di vista Qui si vede Che in certi content creator Non hanno più La voglia Di fare contenuti Di ingegnarsi Ormai l'originalità È morta Detto sinceramente Ormai l'originalità È morta E gli unici che cercano Di portarla Comunque sia Sono veramente poche persone Però che hanno veramente Contenuti di qualità Veramente si sforzano Ogni giorno Per cercare Di trovare qualcosa Che viene veramente Meritata E che possa tenere Comunque sia incollato Lo spettatore Più che dare la mia opinione Non farà molta strada E se ne farà Ahimè Vuol dire che stiamo Sbagliando solamente noi Vuol dire che noi Stiamo solamente Sbagliando il metodo Che in realtà Era tutto sbagliato Quello che mi hanno fatto E che dovevamo solamente Svegliarci prima Col fare queste cose qui Svolgere alla fine Il discorso Abbiate inventiva Se volete crescere su youtube Abbiate creatività Abbiate anche Un minimo Di cervello Perché sinceramente In caso dovesse succedere Che le vaste Certi titoli Le vaste Certe immagini Le vaste Certi video Anche dalle vostre streaming Non vi rimarrebbero Nemmeno 4 spettatori Non vi rimarrebbero Non vi rimarrebbero Non vi rimarrebbero